in questo video che magari non è simpatico vi spiegherò perché bastianini non sarà presto più un pilota ducati factory e bezzecchi molto probabilmente non lo sarà mai ama come il futuro di magnaia piloti fortissimi ducati se li lascia scappare e come la gestiamo è importante capire che non c'è posto per tutti e qualcuno dovrà mollare e secondo me vi dico vi dico chi sono ok date un'occhiata a questo video sigla allora ciao da mister elvito fino a qualche tempo fa io ero di quelli convinti che bastianini fosse più forte di magnaia in alcuni casi l'aveva anche dimostrato nella sua situazione ideale nel team gresini con una moto quasi uguale a quelle ufficiali ma senza tante pressioni bastianini è riuscito a fare meglio si è assolutamente meritato il ruolo di seconda guida ducati e bisogna stare attenti a dire seconda guida la sua situazione quella di bezzecchi quella di bastianini quella di bezzecchi sono assolutamente diverse ma uguali in quello che sarà il destino dei due piloti ok con uno dei due ad aver avuto un'occasione in più parliamo subito intanto di di bastianini si è strameritato la ducati ufficiale e ci è finito però in un periodo in cui il suo ruolo è necessariamente quello di seconda guida perché poi bagnaia il mondiale l'ha vinto la se bagnaia il mondiale non avesse vinto sarebbero potuti partire comunque alla pari diciamo così ok ma purtroppo per fortuna per educati e per bagnaia non è andata così bagnaia è capito del mondo è comunque leader di una situazione di squadra e quindi bastianini è partito in una determinata posizione poi abbiamo avuto un avvio di campionato che conosciamo tutti con bastianini penalizzato da un brutto incidente con luca marini dove è rimasto veramente offeso e ovviamente non è colpa di marini ci mancherebbe cioè è colpa nel senso che è stato lui ma non è che l'ha fatto apposto gli si può attribuire chissà che cosa e quindi la situazione di bastianini è partita malissimo è partita malissimo perché non c'è niente di peggio per qualcuno che non conosce una moto bastianini la ducati la conosceva però era una situazione diversa non c'è niente di peggio che partire con un handicap così ovvero con la possibilità con la necessità di perdersi tutto l'inizio di un campionato e prendere le misure mentre gli altri prendono il largo ok quindi per bastianini è andata male ha avuto un infortunio successivo per il quale è ancora fuori e quindi è evidente che la sua situazione non è delle migliori è chiaro ma bastianini è stato riconfermato giusto è stato riconfermato per correttezza per dovere per situazione contrattuale perché comunque insomma sarebbe stata una forzatura mandarlo via però la verità è che ducati come non ha bisogno di marquez e lo ha detto non ha bisogno di quartararo bisogno di nessuno se non della suo uomo migliore che finché performerà e quindi bagnaia è più che sufficiente per vincere il mondiale ducati non ha nemmeno bisogno di un bastianini in rosso cioè se bagnaia avesse avuto un problema se bagnaia si fosse spento fosse andato in blackout se ci fosse stata una situazione qualsiasi di qualche altro tipo ma alla verità è che in ducati c'è la fila c'è martin c'è tutta una situazione adesso prendono morbidelli se riescono e ci sono i comprimari ci sono i piloti rampanti che aspirano alla rossa ci sono i comprimari sono gli emergenti ci sono quelli da accontentare c'è tutta una situazione di variegate in ducati che di sicuro non serve non serve avere come posso dire bastianini o un altro top rider ok quindi la verità è che bastianini bastianini farà un altro anno in ducati e sarà un anno in uscita in uscita cioè non c'è futuro per bastianini nemmeno dovesse vincere le gare perché abbiamo visto che sono stati mandati via dei piloti che vincevano avevano vinto anche le gare che si stavano anche comunque riprendendo mille è stato mandato via in qualche maniera faceva un certo tipo di lavoro petrucci è stato mandato via in qualche modo faceva un certo tipo di lavoro persino dovizioso alle a richieste di un certo tipo diciamo che è stato come potete posso dire lasciato andare quindi a ducati interessa soltanto vincere il mondiale possibilmente con bagnaia il magnaia perfetto ci sono piloti che vogliono andarci e quindi ducati non ha assolutamente bisogno di bastianini che dal punto di vista contratuale è assolutamente debolissimo cosa farà bastianini è abbastanza interessante perché perché bastianini è in una situazione in cui non può tornare indietro perché difficilmente potrà andare in pramac visto che insomma i posti mi sembrano occupati potrebbe tornare in un team ducati satellite ma sono tutti team a senso unico cioè che portano o cercano di portare verso il rosso potrebbe andare in un'altra casa insomma io quello che posso dire è che la verità è che non esiste un futuro ducati il rosso per bastianini oltre la fine del 2024 è chiaro fra un altro anno farà da comprimario prenderà dei soldi probabilmente si piazzerà adesso è anche molto lontano da far questo in qualche gara però credo che non ce la farà adesso se volete possiamo dare un'occhiata alla situazione di bezzecchi però prima se vi piace tutto questo iscrivetevi al canale attivate le notifiche e scoprite come potete supportare mister helmet con lo shop le donazioni i super stickers e i super grazie e soprattutto l'abbonamento a partire da tre centesimi al giorno per il super supporter e gli sugar daddy la possibilità di partecipare alle chat ai sondaggi agli avvenimenti in tempo reale e avere le anticipazioni e tutto il resto perché vi dico questo perché in uno scenario in cui l'informazione parla delle cose che succederanno oppure spesso si inventa delle robe che non succedono mai con mister helmet cerchiamo di fare un'analisi libera e indipendente non c'è casa non c'è team non c'è sponsor che possa come posso dire suggerire a mister helmet di dire qualcosa o di non dirlo adesso è il momento di parlare di bezzecchi bezzecchi è in una situazione in cui il suo passaggio a ducati è stato già stoppato cioè sul nascere mi spiego avrebbe potuto avere una forma di ducati factory andando in pramac valentino rossi in persona sembra glielo ha impedito e a mio avviso ha fatto anche bene perché le possibilità di vincere di bezzecchi adesso mi pare siano le stesse più o meno di martin che la ducati factory ce l'ha se se non sei su una ducati rossa tanto vale rimanere sulla miglior ducati che ti fa stare bene a livello di team e di situazione fra virgolette familiare organizzative tutto il resto non mi pare che bezzecchi abbia dei problemi a piazzarsi e a vincere delle gare come non li aveva neanche bastianini quindi se non sei bagnaia ok in rosso tutto il resto è quasi uguale non me ne voglia pramac però la verità è che tutta questa differenza fra il team rosso e gli altri team si vede ma fra pramac e gli altri team non si vede quindi bene fa il team vr 46 che dell'anno prossimo sarà per tamina per tamina anche se nessuno l'ha ancora annunciato l'ho annunciato solo io a tenersi il suo pezzo più pregiato e il suo pezzo più pregiato vr 46 se lo venderà come è giusto che faccia un team attenzione non è una critica come è giusto che faccia un team satellite che deve creare valore e deve piazzare il suo vivaio e che deve come posso dire ottimizzare dal punto di vista dei soldi se lo venderà ma non se non lo venderà a e qui do un grande grandissimo ipotizzo lo scopo del team vr 46 per tamina quindi non money sarà quello di tenere luca marini e di far prendere valore sia marini che ad un altro pilota del team vr 46 che al momento risulta essere soltanto celestino vietti quindi ipotizzo ipotizzo pesantemente che nel 2025 il team vr 46 sarà marini vietti nella sua dimensione e bastianini bastianini e scusate bezzecchi bezzecchi andrà molto probabilmente e qui ipotizzo ancora in aprilia dove cercano un pilota di assoluta qualità giovane da far crescere ma che non sia cerbo da far maturare ma che non sia già completamente viziato da determinate situazioni e quindi bezzecchi è assolutamente in grado di ricoprire questo ruolo del resto vr 46 dirà abbastanza bezzecchi non ti abbiamo mandato in ducati perché comunque sarebbe stata una situazione in cui ti saresti bruciato perché sarà una situazione in cui ci sarà sempre ancora bagnaia come leader e quindi è la situazione di bezzecchi sicuramente non sarebbe ottimale mentre invece in aprilia potrebbe avere un ruolo di assoluto primo piano quindi l'ipotizzo di oggi è triplo bastianini sarà fuori da ducati ma molto molto velocemente già a fine 2024 e si farà un 2024 in assoluta come posso dire in assoluto dimenticatoio anche perché il suo management non è più forte come prima e non ha più la capacità di gestire di valorizzare i piloti basti vedere che non è riuscito a mettere arbolino su una moto gp ma non perché non non volessi perché ci ha provato pesantemente ma fallito in maniera clamorosa sempre più come posso dire sempre meno credibile sempre più buttad sempre più scenette ma sempre meno management io i manager se posso dire la verità i valera e tutti quegli altri i bartolomi e quelli che fanno funzionare le cose non li vedo quasi neanche in televisione no anche il manager di dovizioso era sempre sempre di diciamo così abbastanza abbastanza profilato il manager di marchese nemmeno si vede ok quindi manager di quartararo nemmeno si vede e quindi io poi fai il manager o fai come posso dire il personaggio spumeggiante proseccante televisivo per quanto riguarda e quindi questo è il primo ipotizzo bastianili sarà espulso dal meccanismo purtroppo anche perché ha avuto un infortunio che lo penalizzerà lo sta penalizzando molto per quanto riguarda l'altro ipotizzo ipotizzo vr 46 con marini vietti e ipotizzo ipotizzo anche bezzecchi in aprilia questo spiega alcune dichiarazioni che abbiamo letto più o meno travisate più o meno ben trascritte di uccio salucci che ti manager vr 46 che dice noi apriamo anche ad altri piloti che non sono vr 46 quindi questo va bene e soprattutto non vogliamo trattenere a tutti i costi bezzecchi subito dopo averlo rinnovato quindi la verità è che vr 46 non vuole non voleva trattenere bezzecchi ma non voleva neanche regalarlo a ducati ok segnatevi questi ipotizzo ok ciao da mister e ciao